In un teatro gremito ai vertici di JSW Steel Italy, il gruppo indiano che ha acquisito gli stabilimenti a Ferpi ex Lucchini di Piombino, hanno incontrato gli operai delle acciaierie e le istituzioni, fra cui il presidente della regione toscana Enrico Rossi e il sindaco Massimo Giuliani. Un primo confronto sui piani del gruppo per il rilancio della storica fabbrica, articolati in due fasi, portare al massimo la capacità produttiva degli impianti di laminazione esistenti e poi, entro il 2020, tornare a colare l'acciaio in due nuovi impianti elettrici. La regione toscana ha svolto un ruolo centrale nel salvataggio delle acciaierie, finanziando l'ampliamento del porto e impegnandosi a sostenere il piano di rilancio. Ci sono le premesse e io avrò la coscienza a posto con me stesso quel giorno in cui, magari non farò più il presidente, ma leggerò su un giornale che a Piombino si è tornato a colare acciaio. Lo avevo promesso in una piazza bovio piena nel 2012 e mi pare che abbiamo avuto problemi, interruzioni, questioni, non banali, non semplici, ma alla fine mi sembra che adesso ci siamo molto vicini a questo obiettivo. Oggi ci sembra di vedere che questo forte gruppo industriale, in dubbio, un gruppo industriale che non ha solo dalla sua parte l'enorme capacità produttiva e di innovazione, anche tecnologica, anche dalla sua parte, come ci è stato spiegato, anche un trattamento di questa materia particolarmente delicata sotto il profilo ambientale, ci sembra di aver visto e sentito cose importanti anche sotto il profilo ambientale, di cui la città di Piombino ha bisogno. JS Double View produce nel mondo 18 milioni di tonnellate di acciaio, con un fatturato pari a 9 miliardi e 300 milioni di euro. Le acciaierie di Piombino sono il primo investimento del gruppo nell'Unione Europea.